Le tartarughe che le hanno rubate da sempre, poi le hanno sempre ritrovate e ora stanno quelle originali a San Pietro, al Museo Vaticano. E queste sono copie, idem e gli Efebi. Vi ricordate quando siamo andati a Cofetè, a Giro Cofetè, della fontana lì al centro? È uguale a questa, soltanto che invece delle tartarughe, sta verso l'eranozio. Vi ricordate che siamo stati mesi di Solerani, ma è identica, soltanto che questa dibattatura è un po' più alzata. Andiamo a Padezza a facciarsi dentro a quel cortino.